5 cose che devi assolutamente sapere nel canto da musical. Ciao a tutti, sono Antonio Torella e sarò qui in NAM a Milano con una masterclass sul canto da musical in due appuntamenti, il 3 e 17 marzo. 1. Conoscere bene la partitura. Le versioni incise sono tante, ma è importante connettersi con le intenzioni originali del compositore. 2. Analizzare l'andamento della scrittura. Quando un pezzo è scritto bene, l'andamento della scrittura, della melodia e soprattutto il sapore degli accordi sottostanti ci danno già la chiave per l'interpretazione. 3. Studiare in maniera totale il testo, le liriche del brano, restituirle come fossero autenticamente il nostro pensiero. 4. Saper collocare il brano nel contesto stilistico in cui è nato e restituirlo nello stile vocale per cui è stato scritto. 5. Studiare il brano come se fosse un monologo teatrale. Ti sembrerà paradossale, ma il pubblico deve comprendere quello che dici senza accorgersi che stai cantando. Questo e molto altro lo affronteremo nella mia masterclass. Iscriversi è facilissimo. Scrivi ad info-nam.it. Ti aspetto.